Ehi! Guarda, parti, parti! Bravo, bravo. Va bene, va bene, va bene, dai! Va bene, dai, va bene! saliole saliole gira la di qua gira la di qua gira la di qua bravo Samu 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 è la propria? è la propria era lui dai, pensa a giocare su, ma è stato schierato anche non è la propria non è la propria non è la propria dai, fischia devi fare fallo lì Sì, però non era per il seno. Occhio! Vai, vai! Non vai a esterno! Non vai a esterno, non vai a esterno! Venga la rotta! No! Basta, basta! Che poi... Sì! 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 Ah! 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 in casa bravo dai dai ragazzi dai dai segmi ridagliela ridagliela No, c'è delle volte che la faccio, ma si intersabisce così e ti è. E' ispirato. E' ispirato. Perché io sono ispirato. E' una volta in un mezzo. Nacca, noa-ndacca! E' sale, sale! No, no, no! E' una volta in un film, ma non prende la proposta... E' una volta in un film. E' una volta in un film. Grazie a tutti 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 Grazie a tutti